Ciao a tutti, solo il 3% della popolazione ha una X su entrambi i palmi delle mani. Cosa significa? Allora, qua vedete la X, si può vedere, ovviamente qua ad esempio esiste una X, questa, dovete andarla a cercare nelle situazioni, e qua esiste un'altra X, questa linea qua, questa linea e questa linea generano una X. Come qua, si genera un'altra X, questa linea e questa linea. Non tutti hanno la X su entrambi i palmi delle mani, solo circa il 3% della popolazione. Allora, e c'è uno studio, uno studio serio fatto dall'Università di Mosca, che ha studiato ben 2 milioni di persone in tutto il mondo, quindi non poche, 2 milioni di persone in tutto il mondo, con risultati sorprendenti. Tutte le persone con la lettera X su entrambe le mani sono risultati di essere dei leader. Dei leader ovviamente nell'ambito in cui operavano. Ad esempio Vladimir Putin ha una X su entrambe le mani. E si dice che anche Abraham Lincoln avesse la X su entrambe le mani. Quindi sono persone che raggiungono il successo nell'ambito in cui operano. Diciamo, il successo innato fa parte della loro vita, nel settore ovviamente nel quale operano. Questo è quello che è il risultato, diciamo, da questo studio. Ripeto, fatto in Russia, ma su un campione veramente elevato di persone, 2 milioni di persone. Per questo video è tutto. Seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e sul canale... Iscrivetevi al canale YouTube e iscrivetevi anche sul mio nuovo canale di cui Felicità e Benessere, di cui posterò il link in descrizione. Ciao a tutti!